Ciao TV è orgogliosa di presentare uno speciale musicale per la festa del papà. Domenica 20 giugno 2021 andremo in onda con un speciale per tutta la famiglia con la musica di Grenville Pinto e il suo magico violino. Nato a Hamilton, Canada, Grenville suona il violino dall'età di 7 anni. Ha tenuto concerti in tutto il Nord America e all'estero. Non dimenticare di guardare questo evento speciale per la festa del papà in onda questa domenica molte volte durante il giorno e la sera. Buona festa del papà da Ciao TV a Milton.